Buonasera, siamo qui con Nello Mascia che presenterà Incontro con Edoardo. Nello, secondo te quanto manca Edoardo a Napoli? Edoardo è un monumento, ma non soltanto perché sia stato un grande attore, più grande attore di tutti i tempi, è un grande drammaturgo, un grande direttore, ma quello che ci lascia Edoardo è l'esempio di come si deve fare questo mestiere, di come questo mestiere va affrontato, con il rigore che lui aveva, con la passione che lui aveva e con le rinunce che lui ha fatto per fare la sua attività, rinunciando a tutto praticamente, dedicando la sua vita esclusivamente all'attività teatrale. Appunto, cosa potrebbe dire adesso della situazione teatrale in cui ci troviamo e anche quella cinematografica? Cosa direbbe? Guarda, continuerebbe a dire fuite e vende, ma fuite e vende proprio dall'Italia, nel senso che è un momento di grande barbarie dove, voglio dire, i giovani sono privati del futuro e in cui la cultura è considerata un'attività, non dico secondaria, ma è inutile. Stanno cercando in tutti i modi di farcelo capire che siamo inutili e che siamo, diciamo, destinati all'emarginazione e questa è una cosa veramente terribile. Non è un paese civile quello che considera l'arte come un momento di formazione per le nuove generazioni. quindi non siamo un paese civile. E secondo lei, appunto ha detto Edoardo, è pochè un attore, andrebbe insegnato nelle scuole, andrebbe inserito proprio nei corsi accademici particolari? Certo, voglio dire... Più di quanto si è inserito attualmente? Ma guarda, questo discorso è veramente inutile perché sento sui giornali che nei prossimi anni si escluderà lo studio della storia dell'arte in Italia, cioè il paese che è all'80% della cultura mondiale. questo paese esclude dalla materia di studio la storia dell'arte, quindi di che cosa vogliamo parlare? Edoardo certo che andrebbe studiato, ma come Edoardo andrebbero studiati i grandi classici non soltanto del teatro, ma dei grandi classici della letteratura. Oltretutto i giovani dovrebbero essere educati all'esercizio del bello e questo in Italia non c'è proprio. Siamo molto lontani. Siamo molto lontani. Lasciamoci con un ricordo che lei ha di Edoardo in particolare. Ma potrei raccontare un'aneddota, ma è molto lungo. Comunque il ricordo che ho di lui è quando mi invitò a mangiare il ragù. Io sono orgoglioso di questo momento, insieme ad altre persone, fece una tavolata non nemmeno molto numerosa, mi invitò a mangiare questo ragù, io ero giovanissimo, avevo 23 anni, 24 anni. E quindi si taceva, si mangiava, si assaporava, si diceva è buono. Alla fine, lui non parlò proprio, alla fine disse ti è piaciuto? E segnandò. E un'altra cosa bella che voglio raccontare, posso raccontare? Come no? Ma io ne tengo tante di aneddoti di Edoardo, per dire Edoardo chi era. Questa è brevissima, ma è molto carina. Io ho lavorato per poco tempo con lui. Bisogna premettere che quando si lavorava con Edoardo era una specie di chiesa, come devo dire, una sorta di rito. La sacralità. La sacralità, non si parlava. Io, passando davanti al camerino di Edoardo, che era chiuso, fece uno starnuto. Edoardo uscì. Non parlava con l'estudio, Edoardo non ha mai parlato con l'estudio, non ha mai rivolto la parola a nessuno dei suoi attori. E mi disse, sei raffreddato. E io dissi, no, 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 no. Aspetta un momento. Entrò nel camerino, uscì e mi portò. All'epoca si chiamava Cletanol. Qui si chiama Cletanol, disse lui. Per due ore non hai il raffreddore. Prenditelo. Io ce l'ho ancora conservato come una reliquia. Ti ringraziamo per questo bellissimo ricordo. Ciao.